Sono quattro i defibrillatori che la protezione civile Falchi del Salento di Taurisano ha acquistato grazie alla generosità di alcuni cittadini, di aziende e di due farmacie del territorio. Personale qualificato con una formazione adeguata per garantire questo servizio sanitario garantirà assistenza continua. Uno è stato posizionato presso la stazione dei Carabinieri, l'altro presso il commissariato di polizia e gli altri due nelle rispettive farmacie che lo hanno acquistato. Adesso si passerà alla fase di conoscenza e formazione dei cittadini coinvolgendo associazioni e scuole affinché tutti siano pronti per utilizzarli in caso di emergenza. Il primo passo verso questa iniziativa che deve portare a far diventare Taurisano una città cardioprotetta. Il prossimo passo sarà quello di informare e formare i cittadini. L'informeremo tramite la distribuzione dei plan che cercheremo di far arrivare ad ogni famiglia. Vorremmo arrivare a raccontare una storia diversa, vorremmo raccontare storie di situazioni in cui c'è stato magari un arresto cardiaco ma che tramite l'utilizzo di questi defibrillatori da parte di un qualsiasi cittadino siamo riusciti a salvare delle vite umane. La cosa secondo me più importante è intervenire presso le scuole perché le scuole hanno un obbligo legislativo l'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore.